Tanto tu no che piove, o almeno dovrebbe essere così. A Livorno i tifosi Amaranto hanno vissuto una giornata, quella di ieri, all'insegna dell'incertezza, alle prese con una società dalle decisioni non chiare. L'allenatore Roberto Breda, alla luce dei risultati negativi, sarà esonerato, ma il comunicato ufficiale non è ancora arrivato. Al suo posto dovrebbe arrivare Bepi Pilon, ma c'è da risolvere la grana Filippini, recentemente assunto in un ruolo che è qualcosa di più di un semplice viceallenatore. Dunque una trama da teatro dei Burrattini, quella che sta tessendo la società presiduta da Aldo Spinelli, il quale avrebbe contattato in primis Castori, ex Carpi, il quale però non avrebbe accettato l'ingombrante presenza dell'ex centrocampista, e poi convocato Bepi Pilon, che dovrebbe presentarsi questa mattina a Genova. L'ipotesi B, in caso di mancato accordo con Pilon, porterebbe Ezio Gelain, da sempre nelle simpatie del boss genovese, il quale lo affiancherebbe a tutti gli effetti ad Antonio Filippini. Oggi la squadra si ritrova, ma chi dirigerà l'allenamento? Perché, come detto, Breda non è ancora ufficialmente esonerato. Insomma, una storia gestita in modo alla viva il parroco, con la tifoseria alla quale non resta che soffrire, sperando in tempi migliori.